Che le pietre non sono di origine terrestre, sono frammenti di meteorite! Oh mio Dio! Cos'è un meteorite? Viene dallo spazio! Fins crede che dobbiamo trovare tutti i frammenti per far tornare suo padre. Ma è assurdo! Aspettate ragazzi, non ho ancora finito! Mirupardo, preparaci dei maffi di zucchine! Ho molto da raccontare! Cinque giorni fa? Dopo la scoperta alla miniera sapevo che c'era qualcosa di insolito e serviva un aiuto originale per le indagini. Fortunatamente sapevo dove c'era lì. Posso creare un diversito? No! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.